Il 20 agosto è la giornata internazionale della zanzara. La data, oltre che ricordare il medico Roland Ross che nel 1897 scoprì il coinvolgimento delle zanzare nella trasmissione della malaria, è soprattutto occasione per porre l'attenzione mondiale sull'importanza della lotta alla malaria e alle altre malattie trasmesse dalle zanzare o altri vettori. L'Organizzazione Mondiale della Sanità stima che le malattie trasmesse da vettori come appunto le zanzari rappresentino il 17% di tutte quelle infettive causando oltre 700.000 decessi ogni anno. La sola malaria ne causa 400.000. Malaria e soprattutto oggi anche nel nostro paese West Nile Virus, malattia trasmessa da vettori e cui oggi Avis pone particolare attenzione. Per chi arriva da aree geografiche a rischio anche nel nostro paese, le misure a tutela delle donazioni vanno infatti da screening mirati alla sospensione temporanea della donazione. Il donatore deve dire che è stato in Emilia Romagna, a Comacchio, nel Lazio, dove è stato e il medico fa fare questo test ulteriore per scoprire se avesse contratto l'UVS nel virus. Sono chiaramente pochissimi i casi in Italia, però è una precauzione che abbiamo perché non va chiaramente trasmesso. Tanto poche settimane fa avevamo proprio fatto il punto della situazione del meteo sanque in Toscana. Alcuni gruppi erano particolarmente grave, la carenza. Ora siamo oltre la metà di agosto, è cambiato qualcosa? No, no, assolutamente. Siamo come A positivo, A negativo. Zero positivo che è in emergenza. Zero negativo. Anche il B, addirittura che è sempre un gruppo tranquillo. Sta mancando anche il B positivo, sicché veramente c'è bisogno di coinvolgere tutte le persone che sono donatori, ma anche coloro che non lo sono, per provare a diventarlo, perché veramente entrare nel mondo delle donazioni è veramente importante.